Stavo dicendo, questa sera abbiamo avuto una grande apertura a discutere e invece, d'altro canto, una chiusura sul merito. E noi che stiamo attenti al merito non possiamo non tenere in considerazione questo. Si è passato a un approccio diverso nel confronto con il sindacato perché sembrerebbe che adesso della riforma della pubblica amministrazione siamo direttamente interessati e vedremo nei prossimi giorni come si tradurrà questo interessamento del sindacato, dei lavoratori pubblici e dei cittadini a una grande riforma della pubblica amministrazione.